Orari differenziati per gli ingressi e le uscite, più pullman per garantire i trasporti in sicurezza, una raccomandazione alle forze dell'ordine perché vigilano nei punti più delicati della viabilità provinciale, un appello alla responsabilità di tutti superando polemiche e notizie non attendibili. Il mondo della scuola deve ripartire e per farlo serve la collaborazione di ognuno. Così il prefetto di Salerno, Francesco Russo, al termine stamani di un altro comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, precisando ai nostri microfoni che è stato predisposto un piano efficace per la ripartenza delle scuole il prossimo primo febbraio, frutto di uno studio attento alle reali esigenze di trasporto e del mondo della scuola. Il sistema si articola chiaramente su vari elementi. L'elemento principale che lei ha già sottolineato è quello del rientro a scuola, insomma, è con gli spazi non solo di educazione ma anche di socialità per i ragazzi, evidentemente sono al centro dei nostri pensieri. Le scuole dovranno, le scuole di alcune zone della nostra provincia, nello specifico Salerno, Cava dei Tirreni, Lagro, Nocerino, Sannese, la Valle dell'Irno, per loro considerato i flussi anche di movimento del traffico e via discorrendo ed anche la grossa presenza di scuole in queste tre fasce, in queste tre zone praticamente si è deciso, si è concordato nella sede del tavolo prefettizio, praticamente del tavolo provinciale, di fare su due turni, uno che parte alle otto e uno che parte alle nove e mezza barra dieci. Quindi questo sarà, ne siamo consapevoli, un piccolo disagio per le scuole, per i professori, per i ragazzi, ma è necessario per ripartire in sicurezza. Sicurezza è un principio che tutti quanti noi affermiamo e che dobbiamo praticare poi anche nei nostri comportamenti quotidiani. La sicurezza è il primo aspetto. Per quanto riguarda la presenza degli autobus, spesso si è lamentata l'insufficienza degli autobus, è stato fatto uno sforzo notevolissimo attraverso un piano regionale, praticamente il rinforzo è in parte delle aziende, in parte praticamente degli NCC, che contribuiranno a aumentare notevolmente l'offerta di trasporto. E questo è il secondo punto. Il terzo punto per fronteggiare quelli che sono possibili assembramenti, soprattutto in alcune zone che anche queste sono state individuate con una certa precisione, terminal bus oppure punti dove ci sono più istituti scolastici, praticamente ci sarà la presenza, con il supporto anche della protezione civile regionale, attraverso richieste che potranno fare i sindaci all'ufficio della protezione civile regionale, per avere contributi, aiuti per gestire ed impedire che si verifichino situazioni di assembramento e comportamenti non consoni alla gestione del Covid. Anche perché non sempre i comuni hanno la disponibilità di avere pattuglie di polizia municipale da poter dislocare su tutto il territorio in prossimità delle scuole? Beh sì, questa difficoltà ci è stata rappresentata. Ecco, lei giustamente sottolinea, il sistema è complesso e il sistema passa anche attraverso alcune volte scarsità di persone piedi scolrendo, ma appunto per questo si sta venendo incontro, attraverso anche in questo caso un piano regionale per sopperire alle carenze di persone che ci potrebbero essere. Io stamattina ho tenuto anche un comitato per l'ordine della sicurezza pubblica, raccomandando, ma questo come già normalmente accade anche alle forze di polizia, polizia, carabinieri, guardie di finanza, attraverso il piano di gestione e di controllo del territorio, di vigilare in modo particolare quelli che sono i punti più delicati della viabilità provinciale. L'importante adesso è iniziare, poi il sistema lo registreremo mano a mano. Ecco, io faccio un appello alla responsabilità di tutti, è fondamentale in questo momento. Anche superare parecchie notizie un po' false, un po' montate, un po' che sento girare praticamente. Andiamo a verificare con attenzione tutte le possibilità, le offerte che ci sono, gli autobus, ci stanno gli orari previsti via discorrente, dopodiché praticamente una volta che abbiamo iniziato, abbiamo iniziato in sicurezza, abbiamo iniziato cercando di fronteggiare con efficacia tutti i possibili assembramenti, vedremo se è necessario portare qualche aggiustamento che possa in qualche modo, diciamo, alleviare quelli che sono i disagi che il mondo della scuola potrebbe vivere nella prima fase.